Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Romina Carrisi è felice da più di due anni accanto al suo compagno Stefano Rastelli. Con lui ha deciso di diventare mamma per la prima volta, dando alla luce il piccolo Axel Lupo il 24 gennaio 2024, dopo un travaglio di oltre 14 ore. Stefano Rastelli, regista di 53 anni, e Romina Carrisi, si sono conosciuti dietro le quinte del programma Rai Oggi è un altro giorno. Non è stato un colpo di fulmine, ma l'amore è sbocciato all'improvviso, grazie a un bacio scattato per gioco. Rastelli ha recentemente ricevuto un premio per i suoi servizi dall'Ucraina, in occasione del Festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera. Axel Lupo è il primo figlio per Romina e il terzo per Stefano, che ha già due figlie avute durante il suo primo matrimonio. Emma e Lola, rispettivamente di 16 e 20 anni, sono le splendide figlie del regista. Al momento la coppia non ha intenzione di sposarsi. Romina Carrisi ha dichiarato durante un'intervista a Verissimo, né io né lui vogliamo sposarci. Siamo felici così, non c'è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi. Ho un senso di vergogna nei confronti dei matrimoni maestosi. Dover far vedere al mondo l'amore mi spaventa. Sono resti a questa esternalizzazione plateale dell'amore.